Ennesimo colpo di scena nella vicenda del parco urbano di Piazza d'Armi, una svolta dopo anni di tira e molla, il Comune ha rescisso infatti il contratto di appalto con l'impresa Rialto Costruzioni, 10.000 euro di contratto firmato nel 2016 con un aumento successivamente dei costi di realizzazione. Nell'albo pretorio c'è la delibera che parla di ritardi e inadempienze dell'appaltatore, redatta dal RUP il 9 agosto del 2022. Per questo si è deciso di chiudere con la ditta di caserta, il Comune peraltro si riserva anche di chiedere i danni, così si legge. Una decisione che per la verità era un po' attesa e nell'aria dal momento che l'ANAC a febbraio aveva mosso pure delle osservazioni in merito all'iter dell'appalto. Il Comune, stazione appaltante, spiega che non è stato messo in condizione di esprimersi in merito all'ammissibilità delle modifiche progettuali né tantomeno di quelle di prezzi, di cui lo stallo del procedimento di verifica del progetto esecutivo, condizione essenziale per l'approvazione del progetto e l'avvio effettivo dei lavori. Una situazione che per l'ente non è cambiata neanche quando c'è stata la diffida e messa in mora. Inoltre si legge nella delibera che costituisce gravissimo inadempimento dell'appaltatrice, l'aver omesso di sostituire con altra garanzia fidegiosoria quella che è venuta meno a causa dell'accertato stato di insolvenza del primo prestatore. I tempi dunque si allungano ulteriormente per questa realizzazione. Come si ricorderà, a febbraio l'autorità anticorruzione aveva sottolineato che il primo progetto esecutivo, redatto dall'impresa, presentava considerevoli modifiche rispetto al progetto definitivo approvato dall'amministrazione e posto alla base della gara, con l'importo dei lavori passato da 10 milioni di euro circa a più di 15, un progetto che quindi per l'ANAC non era conforme. Ora è tutto da rifare. Il parco urbano avrebbe dovuto riqualificare l'intera area attigua ai già esistenti impianti sportivi. Grazie.